oi si è rotto ciao a tutti ho promesso i miei attrezzi di andare a pesca sii vogliamo pescare tanti pesci adesso iniziamo il master class della pesca vai prendilo tiralo fuori dall'acqua dai ce l'ho quasi fatta guardate che pesce ecco qua il primo pesce riccardo posso provare io adesso dai proviamo ehi che rumore è questo qualcuno sta chiamando aiuto a a A presto! Tutti i trucchi sono stati caricati Puoi andare Grazie Buona giornata Oh no La strada è scivolosa Oh no Quel camion sta annegando Butta via tutti i tronchi Non posso Devo portarle al cantiere Prendi il salvagente Butta via tutti i tronchi intorno a galla I miei tronchi non si toccano Oh si è rotto E' ora di correre in soccorso Camion Tutto a posto? Sì più o meno Sì più o meno Dai ora ti asciugo Ehi qua dove sono i miei trucchi? Non ti preoccupare Ora li recuperiamo Ehi vieni qua martello Ecco qua degli altri trucchi Ecco le degli altri Grazie mille cari attrezzi Grazie mille Riccardo Adesso potrò portare Tutti questi tronchi Al cantiere Ciao a tutti Arrivederci camion Allora attrezzi Vi è piaciuta questa giornata di pesca? Sì ci siamo divertiti un mondo E a te piace pescare? Noi ci vediamo alla prossima avventura Ciao ciao Ehi camion Ma che fine avevi fatto? Ho deciso di farmi la nuotata Oh si è rotto Ciao mi chiamo Riccardo E ora mangio un bel gelato Adoro il gelato Qual è il tuo gusto preferito? Che buono E' arrivato qualcuno Sto arrivando Sto arrivando Ciao autogru Ehi ma cosa è successo? Ehi ma che ci fate In questo blocco di ghiaccio? Ciao Riccardo Questa volta non serve A me l'aiuto Ti prego Salva quella macchina Gru Puoi iniziare a caricare Però fai attenzione E' un pericoloso canone del ghiaccio Stai tranquillo Ce la faccio Ce la faccio Che brutta strada Ehi ma che cos'era? Devo mettermi sulla strada normale Ehi qui E' pieno di ghiaccio E di sassi Ah E questa strada Vedo che me sta bene Passo per di qua Ho fatto proprio bene E imboccare questa strada Ehi c'è una macchina Oh no Sono controvano Adesso ci spiantiamo Oh no Oh no Il cannone ha trasformato La macchina In un cubetto di ghiaccio Oh oh Si è rotto Meglio andare da un meccanico La sistemerà spero Wow Ma come avete fatto? Ah 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 Ehi ma Questo è il tettuccio Oh 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 Per liberare la macchina dal ghiaccio Ho bisogno dei miei strumenti Mi servirà un martello E uno scalpello Ehi Riccardo Hai dimenticato di indossare gli occhiali di sicurezza Ah si Me l'ero proprio dimenticato La sicurezza Prima di tutto Wow Si è rotto il ghiaccio Guarda che pezzo di ghiaccio gigantesco Ah 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 Ora dobbiamo fare l'altra parte Ha ha Bene macchina Ora ti abbiamo liberato dal ghiaccio Grazie Riccardo Brrr Che freddo Mi sono congelato Dai Ora ti do una bella asciugata Brrr Grazie Riccardo Bacchina Scusa se hai sofferto per colpa mia Non l'ho fatta apposta Non c'è problema L'importante è che sia finito tutto bene Autogru Ti dico una cosa Se vedi questo cartello Vuol dire che non puoi passare Non infrangere le regole della strada Mi raccomando Grazie Riccardo Farò tesoro di ciò che hai appena detto Autogru Ti aiuto a fissare il cannone in sicurezza Bene Ora il cannone può arrivare a destinazione in tutta tranquillità Grazie mille È ora di andare Ciao Autogru Mi raccomando Fai attenzione E te Vuoi sapere chi verrà aggiustato al prossimo video? Lascia un like E iscriviti al canale Ciao ciao Sto cadendo Oi Si è rotto Ehi ciao Ogni tanto bisogna dare una bella spolverata Così va molto meglio Ehi è arrivato qualcuno Sto arrivando Sto arrivando Ehi salve muletto Qual è il problema? Ciao Riccardo Tutto è incominciato Quando stavo scaricando la merce da una barca Ehi barca Vieni più vicino Attracco Vieni più vicino 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 Grazie a tutti. Muletto, carica i cubi sulla barca. Agli ordini! Grazie mille! Ehi, aspetta! Prendi un altro cubo! Oh oh! Eh no! Non posso caricarne più di uno! Anche io riesco a caricarne più di uno! Guarda qua! Attento muletto! È tutto a posto! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Aiutatemi! Oh! Si è rotto! Dai muletto! Adesso ti tiro fuori da lì! Oh no! E adesso come faccio? Grazie autogru! Hai bisogno di un meccanico! Riesci ad andare da solo? Sì sì ce la faccio! Ora che ci penso conosco un bravo meccanico! Ho capito tutto! Ehi ma sei tutto bagnato! Ehi ma sei tutto bagnato! Direi che per cominciare caro muletto devo asciugarti! Ci serviremo di questo fondio! Per cominciare asciughiamo le ruote! E il meccanismo di sollevamento! Ora vediamo se c'è qualcosa di danneggiato! Oh no! I cavi sono allentati! Ehi Riccardo! Posso darti una mano? Certo chiave! Vieni qua! Ah ah ecco così! Muletto! Vediamo ora se funziona il meccanismo di sollevamento! Grazie Riccardo! Sai ho sempre voluto essere il più forte! Caro muletto! Sai ho qui qualcosa per te! Queste sono delle pile! Queste pile ti daranno una grossa mano! Ehi ma sono diventato molto più forte! Ricordati muletto! Con una grande forza hai bisogno anche di una grande responsabilità! Ehi venite a fare rifornimento! Grazie colonnina! Ma non c'è bisogno! Io mi alimento a batterie! E ricorda muletto! Con le batterie non devi per nessun motivo cadere in acqua! Va bene agli ordini! Starò attentissimo! Arrivederci a tutti! Arrivederci muletto! E ricordati! Darsi delle arie è una cosa sempre negativa! Ciao ciao! Grazie! Grazie!